Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Vi auguro un sereno Natale ricco di gioia e felicità. Desidero condividere con voi una sorpresa che mi ha riempito il cuore di gioia. Vediamo insieme cos'è. Ecco, questa è la bellissima sorpresa che ho ricevuto. Questo è il libro scritto dalla mia amica Alessandra Romano, di Furdacchi di Padova. Alessandra è il suo secondo romanzo. Io l'ho già letto ed è bellissimo, intrigante e avvincente. Vi invito anche voi a leggerlo, ma dentro sicuramente ci sarà un'altra sorpresa. Vediamo. Infatti è proprio così. C'è una sua dedica. A Marta un forte abbraccio. I protagonisti del mio libro sono forti e decisi, esattamente come ti. Potresti rileggerti in uno di loro. Un bacio a Alessandra Romano. Alessandra, la verità è che tu sei un esempio per tutti noi. Con questo bellissimo regalo vi lascio e vi auguro Buon Natale. Grazie. 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 Grazie.